Ragazzi buongiorno e benvenuti in questo nuovo video Innanzitutto voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno segnalato questo profilo per la realizzazione di questo video Come la maggior parte dei miei video e grazie a voi se posso creare questi contenuti Allora oggi di chi parliamo? Ragazzi innanzitutto voglio dire una cosa Per me sarà molto difficile restare serio in questo video Cercherò veramente di restare il più serio possibile ok? Però mi capirete a breve Questa persona si chiama Marcello Ferri A breve vi mostrerò qualcuno dei suoi video Non riproducete nulla di quello che vedrete in questo video a casa Lui ha 60 anni da quello che ho visto e spesso nei suoi titoli scrive Guinness World Record Adesso andiamo a vedere qualcuno dei suoi video Il primo video che voglio mostrarvi si chiama 200 kg good morning 10 ripetizioni tecnica non perfetta Ma io cerco forza non muscoli Già da qui possiamo capire ok? Metto il video Ho una paura matta che gli parta un ginocchio Ragazzi mi raccomando non riproducete nulla di quello che ho veduto ok? Anzitutto questo esercizio non so neanche a cosa serva Ok? Se non a spaccarti la schiena e le ginocchia Andiamo a vedere il suo prossimo video Questo qui si chiama Panca Multi Power 93 kg 7 ripetizioni Uno Allora Marcello se stai guardando questo video Qui non hai fatto neanche una ripetizione Queste qui sono chiamate Chiamiamole parziali Una parziale è quando tu vai a restringere il rom Ovvero il movimento completo Qui non hai fatto neanche una ripetizione Seconda cosa Marcello devi applicare Un posizionamento più corretto Sulla panca piana Perché in questo modo ti puoi infortunare Soprattutto quando giri la testa A destra e sinistra Lì puoi rischiare veramente un infortunio Quindi adatta una tecnica adeguata alla panca piana Mi raccomando Questo te lo dico per te perché non voglio che ti fai male Andiamo a vedere il prossimo video Ragazzi questo qui è uno Vi dovete perdonare Vi leggo il titolo Allora Another unofficial Guinness World Record Sollevamento a luce con 41 kg Avete capito bene Sollevamento a luce Andiamo a vedere Ok Io Ragazzi L'ho detto è impossibile restare serio in questo video Io voglio capire come ho fatto a passare per la testa Il sollevamento dell'alluce Però qui ti voglio dar credito Perché non ci ho mai provato Ma penso che sollevare 41 kg con l'alluce Sia davvero difficile Quindi Marcello I miei complimenti Ma non so a che cazzo serve Sollevare 41 kg con l'alluce Però complimenti perché È un ottimo risultato Suppongo Dai Ultimo video Mi sto a crepare Mi sto veramente a crepare Ok Ok prossimo video ragazzi Questo qui è intitolato Official Guinness World Record Attempt Rematore 24.8 kg Per 88 ripetizioni in un minuto Come me le hai chiuse queste ripetizioni Marcello? Io già me lo immagino Ma mostriamolo ai ragazzi che stanno guardando questo video Come si carica ragazzi 3, 2, 1 E via E parte Vabbè stecca No No basta ragazzi Se volete andarvi a vedere il suo video Basta che scrivete Sì basta che scrivete Marcello Ferri Inviscirando tutti i suoi video ragazzi Veramente scusatemi se non smetto a ridere Ma per me è impossibile Fare questo video seriamente Non ci riesco Ragazzi spero che il video vi Ragazzi spero che il video di oggi Porco il Ragazzi spero che il video di oggi Vi sia piaciuto Lasciate un like Un commento Attivate la campanella Perché Youtube non manda sempre le notifiche E iscriviti al canale Noi ci vediamo al prossimo episodio Un abbraccio grosso a tutti quanti Anche al nostro caro Marcello 3, 2, 1